Abbiamo questa transizione tra quello che hai fatto precedentemente e quello che poi arriva a diventare quello che facciamo, fai, facciamo inteso come anche la mia community attualmente. Quindi quel passaggio da dedicare il tuo tempo a varie cose a Soliti fondamentalmente, il prodotto che adesso penso ti impegna al 100% nel tempo. Sì, sì, sì. E lì semplicemente avevo la mia strategia, stavo cercando di creare quella che fosse la mia strategia automatica, automatizzata, e da lì com'è nato Soliti? Semplicemente per un discorso, prima stavo cercando appunto un prodotto per poter diversificare quelli che erano i miei fondi e tutti gli effetti. Successivamente sulle cripto avevo ottenuto dei risultati importanti, posso dire, e da lì ho avuto la possibilità di entrare in contatto con persone, fondi, consulenti finanziari e così via. Però le cripto purtroppo non riescono a darti quella stabilità che magari ti può dare un altro mercato, un asset troppo giovane, non puoi crearti una statistica. Ogni anno vediamo che magari le criptovalute vengono sempre più utilizzate anche nella finanza tradizionale. Abbiamo visto comunque i primi ETF e già lì è un bel risultato, esattamente. Capite bene che questi cambiamenti portano comunque a un cambiamento a tutti gli effetti anche del mercato e quindi non hai una statistica, non puoi crearti una stabilità. Invece nel Forex, che comunque è un mercato un po' più stabile, passatemi il termine, possiamo avere comunque una statistica di quelli che sono molti anni passati. Io diciamo che utilizzo principalmente tre tipologie di analisi, tecnica, volumetrica e ciclica. E il mio primo software è stato quello di prendere la mia strategia discrezionale e rapportarla su un software. Però purtroppo l'approccio utilizzato non è stato dei migliori. Semplicemente perché programmando, basandomi su queste tre tipologie di analisi, quello che sono andato a fare è stato creare più indicatori basati su queste analisi. L'indicatore però purtroppo che cosa è che fa? Ti dà un'indicazione. L'indicazione ti dice guarda qui siamo arrivati a questo punto, potrebbe iniziare a scendere oppure potrebbe iniziare a salire il prezzo. Però poi devi essere tu trader a capire se quel segnale potenzialmente potrebbe essere valido oppure no. Potenzialmente potrebbe non bastare solamente quel segnale e dovresti affiancare altri segnali. E quindi ho detto qualcosa qui non va bene perché quando iniziavo a fare i primi backtest vedevo risultati completamente diversi. Perché magari io da mente umana potevo contestualizzare il segnale, il software no. Il software vedeva semplicemente entra, esci, se ci sono questi due segnali entra, però non poteva capire che c'è tanto. E quindi ho detto Luigi tu utilizzi tre tipologie di analisi per avere un edge statistico quanto più favorevole possibile nei confronti del mercato. Utilizziamo la matematica, utilizziamo l'oggettività. E da lì c'è stato tutto quanto il processo di creare comunque un qualcosa che, passiamo il termine, entrai anche nella consapevolezza di dire l'1% su 500 euro è differente rispetto a fare l'1% su 1 milione, su 100 mila euro, su mezzo milione e così via. E era arrivato al punto di quando investivo non guardavo più quello che potesse essere il mio ritorno, o meglio lo guardavo, però facevo molta più attenzione a quello che era il grado di rischio. Mi facevo molta più attenzione a rischiare, dicevo ok, posso guadagnare il 5%, ma quanto vado a rischiare? Quanto rischio? E quindi dai... Dicevo il tuo parametro è diventato il grado di rischio? Il grado di rischio, non più tanto il profitto. Semplicemente perché? Perché c'era quel discorso che le criptovalute magari non mi potessero dare con la stabilità che ricercavo. Quindi dicevo ok, ad oggi il mio cash flow aumenta a X, domani potenzialmente il mio cash flow sulle criptovalute potrebbe sia aumentare che diminuire, perché non so questa strategia, anche l'inesperienza, come può performare nel tempo, come potrebbe performare in futuro. E quindi ero sempre là sul chi va là, poi con il tempo ovviamente uno riesce ad acquisire consapevolezza, riesce ad acquisire maggiori conoscenze, e quindi ho detto ma io posso mai stare con il discorso di dire domani non so come va, non va bene. E quindi mi sono spostato sul Forex che tu hai maggiori dati, maggiori strumenti, puoi avere più libri manuali da poter leggere, da poter studiare, avere maggiore consapevolezza di quello che stiamo andando a fare. C'è qualche altra cosa di questa parte, un po' sulla tua filosofia di trading, e sempre rapporto assoliti che prima di passare poi magari al broker e tutto il resto di cui vuoi parlare, che secondo te è importante, e poi ti devo fare una domanda. Ok, allora secondo me una cosa importante, una cosa che ho capito con il tempo, è che come tutto ci sono troppi santoni e troppe filosofie. Cosa significa troppe filosofie? Purtroppo non si va al di là di cose, come posso spiegare, non si va mai oltre a quella porta, non si va mai oltre a quel limite, non si va mai oltre a quel pensiero. Io una cosa che amo tanto è sempre dire oggi dico questa cosa a Marco, cerco di dimostrarla, oggi dico questa cosa agli utenti, cerco di dimostrare quella cosa. Invece no, oggi si va tanto sul si sa, perché quello ha detto questa cosa qui, però non si riesce mai ad andare sulla dimostrazione, oppure non si riesce mai a dire fammi vedere questo che cosa vi sta dicendo, se sta dicendo realmente una cosa corretta oppure no. E io ho cercato tanto anche con questo progetto di Solidity di abbattere un po' con questo discorso qui, magari far vedere il social trading come uno strumento valido per poter diversificare il proprio capitale. Perché ad oggi, se tu vuoi vedere un social trading, che strumento hai per poterlo valutare? Ok le statistiche del broker, ok il MyForexBook, però potenzialmente anche lì molti broker non regolamentati, la maggior parte, oppure market maker, per portare i clienti ti vanno a modificare quello che è il MyForexBook. Quindi non hai neanche una massima tendibilità. Il broker stesso che... È il broker stesso, perché appunto se il broker ha interessi a portare i clienti, perché va a guadagnare su quelle che sono le loro perdite, loro devono utilizzare qualsiasi strumento di marketing per prendere quelle che sono le persone. Le regolamentazioni che hanno stanno alle... E allora quando tu utilizzi il .com fai sempre riferimento a quelle che sono le regolamentazioni offshore, perché tu utilizzare già una leva 1.500 ti fa essere al di fuori di quella che è la comunità europea, l'Unione Europea, perché poterò utilizzare una leva superiore all'1.30 in Europa. E quindi già lì è un po' una giungla, diciamo in questo modo qui. Quindi devi stare molto attento a capire quelli che sono il modello di business del broker, le persone che ci lavorano dietro, chi è il CEO, chi fra virgolette, come si impegnano a portare marketing, da dove guadagnano, qual è il loro modello di business. Ci sono una maria di cose che uno deve andare sempre ad approfondire. Però ci sono tanti stereotipi fra virgolette. Allora, diciamo che su questo posso aggiungere che è una componente importante di Solidity, perché è il primo progetto che riusciamo a comprendere abbastanza bene. Quindi ti posso dire da utente che il tuo impegno nell'abbattere questa distanza tra il dogma e l'utente frutta. Io, quello che ho provato all'inizio, quando ho visto il Linktree, è stato un po', diciamo, cavolo, sono tutti questi dati, però io non ho realmente le capacità di capire. Però in realtà non era così vero, perché quando mi ci sono impegnato un po', anche grazie al tuo aiuto, quello del supporto che abbiamo in Discord, facendo domande, poi sono riuscito a capire. Cioè, da un lato se tu ti fermi alla pigrizia, non arrivi da nessuna parte. Da un altro lato, però, gli strumenti che abbiamo per capire questo prodotto ci sono e basta veramente poco per arrivarci. Faccio un esempio, la statistica della durata delle mediazioni, che è una cosa che magari affrontiamo dopo, se vogliamo, una cosa un po' più tecnica. Una volta che hai capito due o tre punti chiave, ti dà una bella idea di quanto sia il grado di rischio di questo progetto rispetto a un argomento che è molto, molto sensibile, che è quello delle mediazioni, appunto. Dato che tanta gente, compreso me, sul discorso mediazioni, martingale, eccetera, eccetera, era super scottato e lo stesso metodo, passami un po' la generalizzazione, usato in maniera completamente diversa, ci ha portato a perdere un sacco di soldi. Invece abbiamo visto che questo strumento, che sono le mediazioni utilizzate in questa maniera, ci ha portato a sopportare dei movimenti di mercato che io non avevo mai visto fare. È un po' il discorso, io faccio sempre questo esempio che è molto drammatico, molto drastico, però forse a me, io quando l'ho pensato, mi ha reso l'idea. Il discorso di quando uno va in macchina, in macchina d'oggi, quanti incidenti ci sono? Quante persone muoiono con la macchina? Questo cosa significa? Che tutte le persone che porteranno la macchina andranno magari a fare degli ciretti oppure magari moriranno, non ci saranno più. È sempre lì, bisogna capire cosa si sta andando a fare. Noi abbiamo la fortuna nel trading, innanzitutto che possiamo testare tutte le nostre strategie. È l'unico business che ci dà la possibilità di testare quelle che sono le nostre idee. Tu domani ti puoi aprire un ristorante e non puoi dire, fammi provare il ristorante con 20.000 euro demo, 50.000 euro demo. Non puoi farlo. Invece nel trading, ora, nel trading mi viene un'idea, ora mi viene un'idea, dico, cavolo, fammi vedere come va questa strategia. Lo posso fare perché abbiamo i conti demo. Questo è un grandissimo vantaggio. Però, oltretutto, abbiamo anche la possibilità di testare, come abbiamo detto. Quindi, laddove io dovessi vedere uno strumento che potenzialmente potrebbe essere valido, io non mi devo limitare a dire, no, questo qua non lo posso usare perché ad altre persone non ha affatto ottenere dei risultati positivi. No, io devo dire, se questo strumento potenzialmente potrebbe migliorare quella che è la mia operatività, fammi vedere come la posso utilizzare. E da lì ho detto, quale potrebbe essere un approccio non ottimale per questa tipologia di operatività? Avere mediazioni statiche. Mediazioni statiche. Ho visto che la maggior parte delle persone utilizzava delle mediazioni statiche. Non significa che questo per forza debba significare che i rendimenti possono essere peggiori o migliori perché nel trading non c'è una cosa sbagliata oppure una cosa corretta. Se funziona, va. E basta che uno deve considerare. Io dico, non è tanto la cosa corretta oppure sbagliata che fa la differenza, ma come vengono contestualizzati all'interno dell'operatività. O meglio, come uno risponde, come uno pensa di utilizzare questi strumenti. Tu non devi considerare il momento insieme, ma devi considerare anche il topo. Devi considerare il primo e devi considerare tutto lo scenario negativo. Devi considerare sempre laddove il software dovesse rispondere in maniera negativa a un evento di mercato. Come si può comportare questa tipologia di operatività? È normale che laddove andassi a utilizzare, faccio un esempio, un moltiplicatore 2 con la mediazione e non andassi a utilizzare uno stop loss. E io là devo andare a considerare che potenzialmente potrai andare a bruciare tutto quello che è il mio conto. Io sono sempre dell'idea che finché c'è margine si può andare a recuperare. Finito il margine tu non potrai mai andare a recuperare. Il rischio di prendere lo stop loss c'è e ci sarà sempre perché l'unica strategia che non prende stop loss è quella che non lo utilizza perché per quanto possiamo avere la statistica, per quanto possiamo essere preparati, per quanto noi possiamo dire questo strumento mi vuol rendere meglio di quest'altro, il mercato è sempre quello che la fa da padrona. Noi quello che possiamo fare è semplicemente avere un edge statistico quanto più alto possibile nei confronti del mercato. Ma noi dobbiamo sempre andare a considerare laddove questo edge statistico dovesse non essere più rispettato nei confronti del mercato come mi devo comportare? E quindi lì molte persone purtroppo perché sono davanti nell'analisi dei competitor vedo che non considerano ok questa strategia mi ha portato i risultati per questo periodo a quest'altro periodo è finito il mio lavoro. In realtà dovrebbe essere un po' diverso il ragionamento da fare. Quindi c'è anche un continuo update della strategia in base a quello che succede perché più passa il tempo più ci sono statistiche che ti dicono come si è comportata in... Ma anche a livello personale è una continua crescita perché tu considera ora noi abbiamo parlato di Outdicad considera anche GPPRZD GPPRZD come puoi vedere utilizza un sistema di mediazione differente uno per il buy uno per il sell anche lì in quel caso lì sembra poco però la dice lunga semplicemente per il discorso che io posso dire non posso mai trovare un valore X che potenzialmente su quello specifico asset andava bene sia per il buy che per il sell quindi ok in questo modo qui lo stesso criterio che ho utilizzato su Outdicad non funziona come mi devo comportare su quest'altro asset c'è la ricerca c'è lo sviluppo e la parola chiave è sempre ricerca se tu sei curioso e studi e non ti fermi non ti limiti hai risultati per quello che è il mio parere e cresci se tu invece ti limiti e dici ok oggi sto guadagnando bene va bene così non è sempre detto che il mercato ti vada bene grazie a tutti grazie a tutti